Ricordi di un terremoto. E questo è il titolo della mostra dell'artista aquilano Giancarlo Ciccozzi inaugurata venerdì 5 aprile a Palazzo dell'Emiciclo. Un'esposizione che rientra nel palinzesto del decennale del terremoto dell'Aquila e che ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale del Comune dell'Aquila e la collaborazione dell'Associazione Italiana per l'arte e la cultura nel mondo. All'inaugurazione hanno dato l'adesione numerosi rappresentanti istituzionali della regione oltre all'ambasciata albanese e russa. Le opere di Ciccozzi sono esposte nella navata centrale e nel giardino d'inverno del Palazzo dell'Emiciclo e la chiusura della mostra, unica per la regione Abruzzo, è prevista per mercoledì 17 aprile. La materia fa parte di me, lo shock l'ho avuto, dico shock, quando ho visto la mostra di Burri a Città di Castello e poi l'ho ritrovata da giovane qui con il maestro Marcello Mariani, un mio caro amico. La materia fa parte di me, mi dà emozioni che ormai con il figurativo non riesco più a trovarlo. A maggior ragione, qui ci sono dei colori che non sono dei colori preconfezionati trovati in un negozio, ma sono magari triturati dai coppi dei tetti del terremoto stesso, delle argille impastate con la colla di coniglio, quindi proprio la tradizione vera e propria dell'arte del dipingere della fine degli anni 50, dei maestri Burri, dei König, company, insomma, Grazie a tutti.